L'augurio di una buona giornata e di una buona mattinata a tutti voi che ci state seguendo in diretta alle 7.30 di questo giorno, venerdì 20 di marzo 2015. Oggi è Santa Alessandra e compagni martiri, il sole è sorto alle 6.11, tramonterà le 18.20. Dicevo oggi sarà una giornata bella, tutta dedicata all'eclissi di sole questa mattina, non c'è una nuvola neanche a pagarla, quindi organizzatevi, chi può? Si può organizzare con le protezioni per gli occhi, perché non è che uno può guardare l'eclissi così a occhio nudo, di conseguenza si può organizzare per guardare questo bel fenomeno di cui parleremo tra poco nella rassegna stampa. Ieri facendo un giro in ferramenta sentivo dire che tutti gli occhialini, le varie protezioni, c'è chi voleva quello per il saldatore, erano tutti andati esauriti ovviamente perché c'è voglia di assistere a questo fenomeno della natura straordinaria. 4 gradi e 3 alle 7.30 del mattino. Allora andiamo adesso sul sito invece della protezione civile delle Marche per vedere le previsioni per oggi. Vedete su tutta la costa c'è il sole con temperature stazionarie o in lieve aumento le massime per domani sabato, fine settimana che comincia un po' a peggiorare soprattutto nell'entroterra, mentre variabilità diffusa su tutta la costa con precipitazioni nel pomeriggio a cominciare dalle zone interne. Poi domenica vedete nuvoloni neri anche se da quello che si evince dalla grafica senza precipitazioni sulla costa pesarese, mentre acquazioni anche abbondanti vedete su tutto il resto della regione è stata esclusione della parte meridionale. Le temperature in lieve diminuzione le massime in aumento le minime. Avremo tempo variabile anche per la prossima settimana, in particolare da mercoledì in poi. La pagina di Fano del resto del Carlino, la cronaca, il processo, accecarono il rivale, il branco, è finito alla sbarra. Giudizio in otto il prossimo luglio. Il legale ha chiesto 618 mila euro di risarcimento. Lo hanno colpito per disprezzo calci e pugni fino a spappolargli l'occhio sinistro e a sfregiarlo. Ora la retina è nera, cieco per sempre. È la storia di Luigi Ragonesi, 34 anni, di Fano, che da quella sera del 4 maggio 2013 non si è più ripreso. Ieri il suo avvocato Cosimo Leone ha chiesto ai presunti autori di quel pestaggio 618 mila euro di risarcimento danni. Dai numeri, l'orologio mutilato, siamo in piazza 20 settembre, la lancetta dei minuti accorciata e quindi evidentemente adesso si attende che qualcuno sistemi un po' le cose. Poi si parla sul Carlino di oggi dell'ordinanza del sindaco Seri che vieta di tenere gli animali in gabbia oppure legati vicino ai fiumi. La soluzione per quanto riguarda il dregaggio, i fanghi, portarli ad Ancona, questa è la soluzione per i grillini che danno indicazione alla giunta Seri, individuare un'area Fano dove gettare le sabbie e prevedere una cassa di colmata. L'arzilla invece che inquina sarà soltanto un ricordo grazie ad un depuratore. Mense del vecchio querelato, ma lui non molla, sull'appalto interrogazione del consigliere che chiede anche la tutela legale. Grisli, Murales fa scoppiare la polemica. disegnati volti travisati, qualcuno sui social evoca l'Isis, rimpallo tra gli assessori, questo spazio autogestito che si trova nella zona del campo d'aviazione, lo spazio si rifà il look, qualcuno si sarà accorto passandoci davanti, appunto che c'è questo dipinto e subito polemica sui social dove è stato anche lanciato un hashtag, chi paga le bollette del Grisli. Alcuni giorni fa i ragazzi del centro sociale che da un anno occupano abusivamente una proprietà demagnale in zona aeroporto hanno completato il Murales nella parete d'ingresso dello stabile. Solidarietà, l'appello di Adamo, campane di cioccolato per aiutare i malati di tumore. La Presidente, andiamo avanti solo con le donazioni, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Ancora dal resto del carlino, l'estate di Marotta, idee e prezzi bloccati, il Presidente dei Bagnini, un ombrellone e due lettini, dice che costano 18 euro, come nel 2013. Il 25 aprile è la data entro cui vogliamo risistemare il litorale dopo i danni legati alle mareggiate. Ancora da Pesaro, il resto del carlino racconta, fa la cronaca del funerale, dell'ultimo saluto ad Andrea Nava, commosso lo zio Massimo Ragneri, esegui al Cristo re del giovane trovato morto. Massimo Ragneri, come vedete, in questa immagine pubblicata sul giornale questa mattina. Poi ancora l'ultima pagina del carlino, che prendiamo in esame nella nostra rassegna stampa, la storia di Anna Maria che vuole battere la malattia e dice che correrò fino alle Paralimpiadi. Ipovedente, domenica prossima, sarà in gara contro la Minetti. Andiamo, questa invece è più una comunicazione di servizio con la Gru e i Rocciatori per sistemare il Tribunale di Pesaro, che quindi nel pomeriggio rimarrà chiuso, lo vedremo tra poco su un altro quotidiano. Apriamo adesso invece il Corriere Adriatico. Nascondeva 3.000 proiettili, è stato denunciato da Pecchio un imprenditore per detenzione abusiva di munizioni. E poi da Fano invece la sosta al posto del distributore Agip non basta. Mezzotero, che è rappresentante di un'associazione di categoria, la Conf Commercio, non cambia idea, pedonalizzare via Cavour sarà il colpo di grazia per una quarantina di esercenti. L'area non sarà mai priva di auto, perché continueranno a circolare i 3.000 permessi rilasciati. E comunque se bisogna farci un parcheggio che almeno sia multipiano, magari andando verso sotto, non sopra. Dragaggio del porto per i grillini si può fare subito, regolamenti alla mano, Micioli a Coto dimostrano che la diversificazione dei fanghi permetterebbe di smaltirne la gran parte. Celani ribadisce, sul caso Rincicotti, assunzioni impossibili. Il dirigente ipotizza una diversa soluzione per i 5 dipendenti. Spero che i titolari tengano duro, Seri parla dopo la razzia di biciclette da Fuligni Sport, stiamo lavorando per rafforzare la videosorveglianza, intanto Sauro Magrini e Mauro Fuligni sono impegnati a rimediare i danni subiti dal negozio. E poi ancora interrompere l'occupazione abusiva del Grizzly per Pollegioni e Montalbini, la situazione potrebbe creare un precedente molto pericoloso. Casa di riposo un bancomat a Mondolfo, la minoranza accusa la Giunta perché la struttura in realtà è inattivo, nessun problema di manutenzione, i costi di circa 80 mila euro sono già compresi nelle spese totali. Ancora dalla pagina di Senigallia, qualche giorno fa vi abbiamo parlato di quell'iniziativa non nuova, ma che però ha guadagnato una pagina sul Corriere di Senigallia, di quell'esercente che ha un bar-pizzeria da Anna a Montignano che ha fisso un cartello, qui i politici non possono entrare. Ebbene, il bar adesso fa affari d'oro, adesso spunteranno, immagino, cartelli se si fanno soldi. Pizze e caffè a ruba da Anna, solo il consigliere d'opposizione Cameruccio riesce a deludere il divieto, Mugenesi della CNA parla di un cartello che dà un senso ironico ad una situazione purtroppo reale. Andiamo sul messaggero, tutti con il naso all'insù per queste eclissi di sole, il fenomeno raggiungerà il culmine poco dopo le 10.30 di questa mattina, iniziative a Pesaro, a Fano, per osservarlo in tutta sicurezza. E ancora dal messaggero, la politica, la corsa verso le regionali, i giorni caldi del grande centro, anche ieri incontri, nuovo centrodestra Udc, ma i contatti confermerebbero il via libera Marche 20 e 20 nel fine settimana candidato e programma. Anche il centrodestra attende, è possibile offrire un'alternativa seria, credibile e vincente per la regione. Ancora dal messaggero ospedale, sanità, ospedale passi avanti ma la situazione resta preoccupante, il sindaco Ricci un altro incontro con i vertici, poi riferirò in consiglio. La CGL, il sindacato dice, la pianta organica approvata non risolve tutti i problemi. E poi ancora il funerale di Nava, chiedo a Dio di donare ad Andrea la gioia che ha sempre cercato, al Cristo Re oltre 300 persone per l'addio. Don Giovanni Paolini ha ricordato la voglia di vivere del giovane, all'esequio anche lo zio Massimo Ranieri. Pesaro studi, altri due anni di vita, Ricci l'Ateneo ha scelto, noi garantiremo le risorse fino al completamento dei corsi già iniziati, cioè al 2017. Poi però il sindaco Ricci è stato fischiato dagli studenti, quando ha detto che Pesaro non vive solo di università. Ancora, caos e paura in Tunisia, vacilla un altro partner commerciale, il presidente della Camera di Commercio di Pesaro, Drudi, non ci voleva, dice, era uno dei paesi più interessanti per i nostri imprenditori. Mentre, come dicevamo, il tribunale resta chiuso nel pomeriggio, come scrive il messaggero, perché inizieranno oggi i lavori per la messa in sicurezza e ripristino danni alla copertura del Palazzo di Giustizia colpito dal maltempo del 4 marzo scorso. I lavori si protreranno fino a venerdì 27 marzo, avranno un importo totale di 18 mila euro. E quindi, per motivi di sicurezza, in accordo con i responsabili, oggi pomeriggio il tribunale non sarà accessibile né ad utenti né al personale. Chiudiamo con la pagina di Fano. Niente animali nelle zone a rischio allagamenti. L'ordinanza riguarda soprattutto allevamenti lungo gli argini dei fiumi. A Pesaro saranno le guardie zoofile a perlustrare il Foglia. La foce dell'Arzilla. Il depuratore andrà in soccorso. L'assessore Mascherina ha incontrato 60 operatori balneari, mentre sul porto, porto al collasso, colpa della classe dirigente, per i 5 Stelle, responsabilità suddivise tra Fano e Ancona. Emergenza Tregaggio, presentato alle autorità marittime e del settore pesca, un controdossier con i lavori da effettuare. Sul maxi appalto per le mense, ancora dubbi invece per Davide Del Vecchio dell'Udc. È tutto per la resegna stampa di oggi. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Ci vediamo stasera alle 20.30 con il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie a tutti.